Ciao ragazzi bentornati nel mio canale, oggi siamo sempre sulla vettura elettrica e vi voglio mostrare dove si trova il filtro abitacolo quindi sapete che in questo canale si parla di fai da te, oggi vi faccio vedere dove si trova il filtro abitacolo, giro la telecamera. Allora questa è una Renault Zoe elettrica con la batteria da 41 kilowatt e il filtro abitacolo si trova dietro questa plastica, si smonta, si tira proprio questa parte di plastica. Accediamo a questo questo piccolo scompartimento, quindi c'è un piccolo coperchio e qui dentro vedete il filtro vedete eccolo qua non lo levo del tutto perché l'ho cambiato da poco quindi si installa nuovamente il coperchio in questo modo e poi si chiude tramite questi dentini, nuovamente la plastica in questo modo con la mano è sempre difficile fare le cose però ce la possiamo fare grazie per avermi seguito, buona serata a tutti